Ciao a tutti amici, qui è Nick che vi parla e benvenuti nella spiegazione del finale controverso di The Umbrella Academy 3. La nuova stagione è uscita da poche settimane su Netflix e in questo video parleremo di cosa è accaduto nel finale, dei dettagli in nostro possesso per capirne davvero il significato ed esporrò anche delle mie teorie per cercare di capire cosa potrebbe accadere in futuro. La stagione si è conclusa con il ripristino dell'universo nello stato normale e vediamo che Hargreeves non solo ha conquistato il mondo sotto il punto di vista economico, ma è anche riuscito a riportare in vita la sua dolce metà. Tornando indietro nel tempo al decimo episodio della prima stagione, questa in realtà spiega davvero moltissime cose sulle grandi rivelazioni mostrate nel finale di questa terza stagione. Lì avevamo visto Sir Reginald nel suo pianeta natale mentre salutava sua moglie. Purtroppo il suo mondo stava morendo, così ha deciso di viaggiare fino al nostro pianeta per salvarci sulla Terra. Con lui c'era un barattolo pieno di strane sfere luminose che poi ha rilasciato nell'aria. Per molto tempo è stato teorizzato che queste sfere fossero poi state assorbite dalle madri che diedero alla luce i bambini dell'Umbrella Academy e non solo. Questa teoria ci viene confermata all'inizio della terza stagione, con queste che svolazzano ed entrano all'interno della madre di Ben mentre questo è seduto sulla metro. Questo in qualche modo è un richiamo anche a ciò che vedremo poi nella finale di questa stagione, dove abbiamo diverse versioni di Ben e questo lo vediamo sia nel corso della stagione ma, come detto, anche nel finale. Ma di questo ne parleremo più avanti nel video. Alla fine della terza stagione vediamo queste sfere che vengono assorbite per potenziare la macchina di Hargreaves in modo che tutto possa ricominciare da capo. È probabile che per tutto questo tempo il suo piano fosse stato quello di creare degli umani che, entrando a contatto con queste sfere, avrebbero generato dei superpoteri insiti in questi e sviluppandoli col tempo, con l'allenamento, l'addestramento sin da piccoli appunto attorno a questi poteri unici diversi uno dagli altri avrebbero potuto in qualche modo sventare quell'Apocalisse che ha distrutto il suo pianeta e non solo. Per farlo, chiaramente, non è che credi i supereroi che, boh, cosa fanno, si combattono tra di loro. No, fai sì che siano qualizzati, quindi sì, li fai crescere assieme, fai in modo che siano uniti in modo che la collaborazione, l'unione dei loro superpoteri possa portare alla salvezza. Questo potrebbe anche spiegare il motivo per cui Serginal Dark Griffiths nella prima stagione aveva dato fine alla sua vita, ovvero in modo da far riunire i componenti dell'Umbrella Academy e alimentare quindi la sua macchina, il suo piano. Nella seconda stagione abbiamo anche visto come Serginal Dark Griffiths sia stato anche coinvolto in questa corsa allo spazio, quindi interplanetare, e tra l'altro nel fumetto ha pure vinto un Nobel. Una cosa che però ci è sempre stata chiara è che la moglie di Serginal Dark Griffiths ha sempre ricoperto un ruolo importantissimo per lui. Nella stagione impariamo anche qualcosa di più riguardo la missione di Luther sulla Luna, e scopriamo che stava anche proteggendo il suo corpo mentre si trovava sulla Luna e che questo era stato messo in uno stato simile a quella di Nora Freed nella DC. Analizzeremo in questo video anche il motivo di questa missione e ci faremo anche aiutare poi dai fumetti per poter anche capire cosa succederà nella quarta di stagione. Questa stagione alla terza è infatti vagamente ispirata a uno dei fumetti dell'Umbrella Academy intitolato Hotel Oblivion. Questo volume non solo comprende all'interno la Sparrow Academy, ma ha anche il nome dell'hotel, Oblivion. Tuttavia le somiglianze finiscono praticamente qui, e al di là della Sparrow Academy che è stata introdotta nel fumetto e anche dell'hotel non ci sono però altre somiglianze in quanto la trama è, possiamo dire, completamente diversa rispetto a quella della terza stagione della serie tv. Nella graphic novel originale infatti l'hotel era una sorta di prigione interdimensionale, una sorta di Alcatraz. L'ultima volta che avevamo visto la nostra intrepida di Umbrella Academy era stato nella seconda stagione quando avevano sventato per la seconda volta la fine del mondo. Ma nel farlo avevano alterato gli eventi del passato generando quindi dei paradossi e creando addirittura una nuova squadra, la Sparrow Academy, con dei nuovi membri. La trama della graphic novel non presentava la parte dei viaggi nel tempo, ma solamente riduceva sostanzialmente e faceva vedere appunto che c'era la madre che presentava al gruppo Vanya. Qui nel fumetto la Sparrow Academy era un gruppo, creato sempre da Sir Reginald Hargraves, utilizzato un po' come backup, come sostituto nel caso in cui le cose si fossero messe male per la Mural Academy. E questo avvenne nel finale del terzo volume, sempre chiaramente della graphic novel. Nella serie tv ci sono una serie di motivi per cui le cose si erano appunto cambiate. A causa degli avvenimenti di Dallas accaduti nella seconda stagione a seguito anche del viaggio nel tempo, Sir Reginald Hargraves era stato disgustato dall'Umbrella Academy. Ed era quindi finito, andando avanti negli anni, per scegliere altri membri diversi da quelli che aveva visto, includendo però all'interno chiaramente Ben, dal momento che fisicamente non aveva potuto vederlo, in quanto era morto. Questo si riflette anche in Harlan, che eredita i poteri di Victor, o Victors. Per anni ha aspettato pazientemente il ritorno degli Umbrella e, alla morte di sua madre Sissy, è riuscito, in un certo senso, a sentirli. Incapace di controllare i suoi poteri, Harlan uccide accidentalmente tutti i membri della Sparo Academy, o quasi, tranne Ben, che anche io non ha mai incontrato. In questa linea temporale, Marcus, Ben, Faye, Alfonso, Sloan, James, Christopher, sono diventati la Sparo Academy, che è stata costituita con lo scopo principale, fondamentale, di fermare il progetto Oblivion. La Sparo Academy è un gruppo molto più funzionale, in un certo senso anche unito nel collaborare, nell'allenarsi, nell'addestrarsi. Questo probabilmente anche per il fatto che non si sono mai divisi, a differenza invece dell'Umbrella Academy, che ha dovuto far fronte, nel corso degli anni, a diverse tragedie, che hanno portato anche il gruppo a disgregarsi. Cinque era scomparso, Ben è morto, e questo aveva portato a una certa frattura, spaccatura del gruppo, a differenza invece della Sparo Academy, che sembra quasi un gruppo unico, una sola persona con diverse desinenze. Hanno anche il padre in terapia che lo calma, e questo gli impedisce di comportarsi da mentore manipolatore, così come era nelle prime due stagioni e nei fumetti. Egli ha in programma per loro di partire per una missione suicida, e la Sparo non vuole che questo accada, quindi lo imbottiscono continuamente di pillole. In questa stagione si ha gli Umbrella che gli Sparo devono far fronte a un'apocalisse, quindi la terza in tre stagioni. Il loro arrivo provoca anche la comparsa di un oggetto simile a un buco nero, noto con il nome di Cougal Beats, che si ritiene sia stato generato a causa del paradosso creato dall'Umbrella Academy. A causa dell'uccisione delle loro madri prima della loro nascita, è stato generato il paradosso del nonno, che 5 spiega durante il secondo episodio. Questa è una discussione teorica ben consolidata nella scienza e nella fisica, che analizza se si sarebbe in grado di poter viaggiare nel tempo per uccidere, ad esempio, il proprio nonno, perché così facendo non si sarebbe potuto arrivare alla propria luce. Conseguentemente, non arrivando mai la luce alla nascita, non si sarebbe mai nati e non si sarebbe quindi potuto viaggiare nel tempo per uccidere il proprio nonno, quindi wow. La commissione, che abbiamo visto benissimo nella scorsa stagione, cercava di fare in modo che ciò non accadesse mai, ma beh, questo succede perché vengono sconfitti. Con i membri dell'Umbrella Academy teoricamente non esistenti, viene generato il kugelbiz che inizia a sparare un'onda che distrugge lentamente la realtà. Ok, Thanos. Nei fumetti le cose non vanno proprio così, in quanto questo era stato generato dalle persone all'interno dell'hotel Oblivion che causavano quindi il caos nella città. Questa stagione mette molto in evidenza l'aspetto di come il passato possa tornare nel presente per tormentarti, e questo lo notiamo principalmente in Arlan, perché ora è visibilmente cresciuto. Far dunque in modo che gli Umbrella Academy non siano mai esistiti, comporta anche che Alison non abbia mai avuto una figlia. E questa scoperta la porta in un pesantissimo turbine di tristezza, sfociando dunque in una di quelle che è tra le sottotrame più belle della stagione, non che una delle meglio recitate. Ma proprio in quel momento Doctor Strange apre un varco che permette a Peter Parker di... Ah no, scusate, ho sbagliato film. Mentre i loro membri vengono eliminati uno ad uno, gli Sparro e gli Umbrella mettono da parte le loro divergenze e fanno squadra per cercare di capire ciò che sta succedendo. Tra l'altro, piccolo cenno, tra i due team c'è anche un faccia a faccia nel primo episodio che è avvenuto anche nel volume, nella graphic novel. Quindi se alcuni l'hanno ritenuto cringe, può essere vero, ma comunque rispecchiava ciò che è successo nella graphic novel. L'hanno voluto quindi rendere il più realistico possibile anche nella serie, per non perdere dunque i tratti che sono voluti chiaramente dall'ideatore. Non si sa molto della Sparro Academy dal materiale originale, ma questo verrà esplorato nel quarto volume della graphic novel che uscirà in futuro intitolato Sparro Academy. Se siete curiosi di vedere cosa siano queste graphic novel, come siano fatte, come sono questi fumetti disegnati eccetera, vi lascio in descrizione i link per le schede per vedere le graphic novel. Potete leggere le descrizioni eccetera, o anche acquistarli. Comunque dopo questo tutti i vari membri delle varie Academy, o meglio quelli rimasti, si mettono in assetto e si dirigono verso l'hotel Obsidian, che per chi ama i casi polizieschi controversi, è uguale strutturalmente all'hotel Cecil, l'hotel di Los Angeles dove è scomparsa Elisa Lam. Questo è proprio per pochi. Questo hotel Obsidian era stato costruito proprio da Sir Reginald Arigreves, come copertura per il portale verso un'altra dimensione, ed è sorvegliato da dei guardiani che triggerano clamorosamente tutti i tripofobici. Se non sai cosa è la tripofobia, non dico niente, potrebbe scoprire una tua paura. A questo punto arriva anche Laila, con l'apparente figlio di Diego, Stan. Apparente figlio, perché l'intera storia del figlio era stata in realtà una prova di Laila per vedere se Diego sarebbe stato un buon padre e se sarebbe rimasto con lei, cosa che alla fine fa perché è davvero un tenerone. Scopriamo anche che Stan era in realtà un ragazzo che Laila aveva trovato a Berlino dopo essere stata liberata dalla Commissione e che finisce per essere spassato via dal Kugelbeats più avanti nella serie. Per quanto riguarda invece la Commissione, si scopre che il loro fondatore era in realtà una versione precedente di Cinque, che avverte il suo io più giovane di non fermare l'apocalisse. Però non do per certo che questa sia davvero una versione precedente di Cinque, in quanto non è chiaro se il Cinque che vediamo noi, quello giovane, sia effettivamente nato dopo dal momento che ha viaggiato nel tempo in tantissime dimensioni e potrebbe venire fuori da qualsiasi anno. Scopriamo anche cosa è successo a poco in questo universo, ovvero che si è unita a una banda di motociclisti dopo aver lasciato il suo lavoro presso Hargreaves. Anche questa banda di motociclisti è presente nei fumetti e si chiama Mothers of Agony, ma lì in realtà erano collegati a una storia di Klaus. Pogo è riuscito ad addestrare la Sparrow Academy, ma in seguito ad un litigio con Reginald a causa della missione Oblivion ha deciso di andarsene. In seguito alla sua confessione apprendiamo che chiunque prenderà parte a questa missione perderà la vita. È interessante notare come sorta di easter egg che all'inizio del sesto episodio la Sparrow Academy è costretta a combattere per suonare un campanellino e le campane, poi nel finale della stagione, saranno anche un emblema di ciò che loro dovranno fronteggiare. Reginald Hargreaves dice loro che questa leggenda delle sette campane è antichissima, importantissima, una sorta di mito e finge anche in un certo senso di non dargli importanza, anche se sta in modo subliminale ponendo nelle loro teste l'idea che solo così riusciranno a salvare tutti. L'hotel assorbe la vita per alimentare la macchina con lo scopo di ripristinare l'universo. Reginald ha provato più volte ad accendere questa macchina e vediamo un gruppo di soldati inviati nella dimensione che erano stati tutti sconfitti dai guardiani. Questo è il motivo per cui Hargreaves e Pogo avevano deciso di addestrare dei ragazzi, dei bambini, in modo da poter far squadra, far crescere dei poteri davvero forti e riuscire forse a sconfiggere questi guardiani. Pogo però non voleva più far parte di questo progetto e in un certo senso neanche la Sparrow perché sapevano che questo li avrebbe condotti verso la morte. E' questo il motivo per cui la Sparrow aveva deciso di imbottigliare di farmaci Sir Reginald Hargreaves, in modo che il suo proposito non si potesse mai realizzare e fino a un certo punto c'erano anche riusciti. Fino a quel momento Reginald si limitava a guardare TJ Hooker finché non arriva però Klaus e lo porta a smettere di drogarsi coi farmaci. Anche Klaus era chiaramente nelle passate stagioni soprattutto un dipendente, uno che abusava di sostanze. E vederlo salvare qualcun altro dalla sua stessa dipendenza gli dà modo di redimersi in un certo senso. Questo però apre anche una trama parallela in cui Klaus viene manipolato ancora una volta per far rimettere assieme non solo Iombrella ma tutti i ragazzi superstiti sia dell'Umbrella Academy che della Sparrow, così chiaramente da poter attuare al 100% il suo piano. Allison viene a sapere poi dell'attacco fatto da Harlan alle loro madri e decide di ucciderlo. In seguito finirà poi per unire le sue forze a quella di Serra Genald Hargreeves in quanto lui le fornisce un modo per riportare indietro sua figlia. Questa linea temporale alternativa porta in tutti coloro che ne sono presenti forse i desideri più reconditi, quelli che li fanno stare bene. Infatti non solo viene riportata in questa linea temporale sua figlia di Allison ma vediamo che è presente anche Ray che aveva conosciuto ed era presente solamente nella linea temporale degli anni 60, quella della seconda stagione. Sembrerebbe bellissimo per Allison ma c'è anche la possibilità che questa dimensione sia in un certo senso falsa non reale o che sia invece una sorta di paradiso in cui tutti ottengono ciò che vogliono, bellissimo, perfetto, anche se questo creerebbe una serie clamorosa gigantesca di paradossi. Parallelamente abbiamo anche la storia d'amore tra Luther e Sloan. Lentamente nel corso della stagione iniziano a innamorarsi e mentre la fine del mondo è alle porte decidono di sposarsi. In occasione di questo grande e importante vento si tiene una grande festa, cioè piccola purtroppo perché erano rimasti in pochi, e in seguito a questa Sir Reginald stringe un patto con Allison per uccidere Luther. Questo era stato pianificato per costringere i ragazzi a riunirsi e fermare questa apparente apocalisse. E ciò che è accaduto richiama clamorosamente il detto, la frase pronunciata nella prima stagione per cui i ragazzi si incontravano sempre e solamente in occasione di matrimoni o funerali. Poco prima del combattimento anche Klaus viene ucciso e i ragazzi superstiti finiscono per fronteggiare i guardiani. Dopo essersi posti sopra i sigilli riescono a sconfiggere l'ultimo di questi, ma poi viene svelata la triste verità riguardo alla macchina di Hargreaves. Allison si rende conto che così facendo finirà per uccidere la sua famiglia e quindi finisce per uccidere Hargreaves mandando in fumo il suo piano. Tuttavia Ella si dirige comunque verso il premere quel bottone e nonostante Victor provi in qualche modo a farla desistere dal compiere questo atto, ovvero resettare apparentemente l'universo, Allison si convince che quella sia la scelta giusta da fare. Sembra un gesto crudele e cattivo quello di Allison, egoista, ma se ci pensate bene a quel punto non è che c'erano tantissime altre alternative? Volevi mantenere tutto così com'era? Si sarebbe rischiato di distruggere l'intero universo perché stava collassando. Quindi viene ripristinato il mondo, o almeno viene fatto una sorta di reset, ma chiaramente l'intera sequenza temporale nuovamente si disfa. I superstiti viaggiano con un ascensore verso un nuovo universo che sembrerebbe idilliaco in quanto al posto di essere come dovrebbe normalmente essere è esattamente come ognuno vuole. Ray sembrerebbe essere il padre di Claire invece che del suo ex marito e gli eroi non hanno più i loro poteri. Ciò significa che anche il corpo di Luther è tornato normale e che non è più fuso con il DNA di un gorilla. Tutti coloro che erano morti o che si erano in qualche modo feriti, mutilati, eccetera, ritornano in vita, così come anche le dita di Diego. Tuttavia Sloan è scomparsa, non si vede e anche se Luther corre a cercarla, non è detto che in questo universo ella esista ancora. Poi i membri dell'Umbrella trovano una targa con una statua in ottone ritraente il volto di Sir Reginald, che è stato donato il giorno in cui erano donati i bambini. È improbabile che lui sia andato a cercarli, in quanto non aveva bisogno di rilasciare le sfere dal momento che sua moglie Abigail è ancora viva. Sembra inoltre che Reginald sia diventato una potenza globale con tutti i grattacieli che portano il suo nome ed è importante notare che la città appaia molto più evoluta rispetto a prima. Siamo forse in un anno successivo al 2022? Oppure in qualche modo il cambiamento, l'evoluzione, il viaggio nel tempo, creando chiaramente dei paradossi, ha in qualche modo fatto sì che la tecnologia si progredisse più velocemente? Penso che i personaggi si renderanno conto presto che nonostante questo sembri un mondo ideale perfetto, in realtà gli manca qualcosa. Potrebbero finire nuovamente per affrontare il loro padre e potenzialmente potrebbero anche portare l'universo in una forma molto simile, se non la stessa, della prima stagione. È difficile utilizzare il materiale originale per decifrare il futuro della stagione, dal momento che le stagioni della serie tv sono solamente vagamente ispirate alla graphic novel. Quindi qualcosa sicuramente ci sarà, ma non sarà tutto uguale alla lettera. Anzi, anzi, sarà più quello che non sarà coincidente con quello che invece in qualche modo verrà richiamato. Passando poi alla scena dopo i titoli di coda, abbiamo quello che credo sia l'originale bene, che sembrerebbe vivere la sua vita a Seoul, in Corea del Sud. Dato che questa è una linea temporale ideale e che lui quindi non ha mai fatto parte dell'Umbrella Academy, significherebbe anche che lui non è mai morto da bambino, come invece abbiamo appreso nella prima stagione. Sebbene la sua presenza si sia dematerializzata nella seconda stagione, c'è stata anche un'altra versione di lui, quella della Sparrow Academy, creata per la terza stagione, mentre agli altri dell'Umbrella Academy è stato impedito di rinascere dal momento che Harlan ha ucciso le loro madri. Quindi è probabile che avremo due Ben, ovvero una versione della linea temporale degli Umbrella e l'altra versione nella linea temporale della terza stagione. Dal momento però che Ben è nato e che si trova sullo stesso terreno dei genitori, è possibile che la seconda versione di Ben sia ancora tra le braccia di sua madre, un neonato in pratica. È strano però come in realtà questo possa essere successo dal momento che, in teoria, la nascita di bambini con dei superpoteri in modo strano, ambiguo, non sia contemplata in questo universo. Dietro di lui notiamo anche delle scintille lampeggianti, anche se questo potrebbero essere solamente un effetto dei binari del treno, potrebbe anche essere che i poteri continuano a orbitare nell'universo, un po' come sorta di easter egg. E inoltre presenta alle sue spalle anche un QR code, che probabilmente in futuro si rivelerà qualcosa di importante, forse l'annuncio della prossima graphic novel. Andando avanti, mi piacerebbe molto vedere cosa accadrà in questo universo idealistico, dove c'è ogni cosa bella e idealiaca, come piacerebbe ad ogni singolo membro dell'Umbrella Academy. Tuttavia, questo potrebbe portare, come accennato poco fa, dei doppelganger, e che quindi i vari personaggi si renderanno conto di non appartenere davvero a questo mondo. Questo potrebbe indurli a ripristinare, come detto, la situazione forse della prima stagione, la situazione iniziale del loro universo, e che quindi magari questa volta potranno essere loro, in una sorta di gigantesco plot twist, a scatenare questa volta l'Apocalisse. Argyris poi sembra ancora di più essere un tiranno in questa realtà, e mentre il suo obiettivo nelle scorse stagioni riguardava chiaramente il poter riportare in vita sua moglie, nella prossima potrebbe invece progettare di ucciderla. Come sappiamo, i due sono entrambi degli alieni e potrebbero governare loro il mondo, magari in un modo tirannico, schiavizzando gli umani. Ci sono davvero tantissime possibilità riguardo alla quarta stagione, e dando il mio giudizio personale su questa, sulla terza stagione che si è appena conclusa, ritengo che sia al momento la meno bella, ma non che sia brutta, anzi che sia bella, tra le tre forse non è quella che mi è piaciuta di più, però comunque ha posto le vasi per un ottimo e bellissimo continuo. È chiaro, anche questa stagione ha i suoi difetti, ma con un gruppo così vario e divertente, guardando tutti gli episodi, è quasi impossibile non divertirsi. Ovviamente la pandemia ha influenzato moltissimo la produzione di questa stagione, e dal momento che in passato giravamo in tantissimi luoghi diversi, sia parlando di tempo ma anche proprio di luoghi di location, questa stagione sotto questo punto di vista è molto molto statica, siamo sempre nella stessa hotel. Nell'altra faccia della medaglia vediamo però i personaggi che si sono sviluppati, che sono cresciuti nel corso di questa stagione, forse molto più di non quanto abbiano fatto nelle altre stagioni, quindi è un'altra faccia della medaglia, questa volta molto positiva. In definitiva, la terza stagione di The Umbrella Academy mi è piaciuta, e questa era la spiegazione del finale. Ovviamente mi piacerebbe sapere i vostri pareri, quindi scrivete la vostra qui sotto nella sezione dei commenti con il vostro pensiero sul finale e anche le vostre teorie. Se vuoi qualcos'altro da guardare, ti lascio qui nelle schede il quiz su The Umbrella Academy, quanto conosci questa serie tv? Vi ricordo inoltre di seguirmi su Instagram, il mio nome è Parisi-Nicolas. Grazie per la visione del video, qui è Nick. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!